Nel video di oggi vediamo come fare 100 euro al giorno lavorando da casa. Ciao, mi presento velocemente, sono Cristian Salerno, musicista che tanto tempo fa si era rotto le scatole di fare la fame come tutti i musicisti e aveva cercato delle vie alternative per guadagnare, le ha trovate nel mondo dell'online e qui su questo canale YouTube sono qui con te per raccontarti un pochettino e condividere le mie esperienze. Oggi nella fattispecie parliamo di come arrivare alla cifra di 100 euro al giorno guadagnando, lavorando da casa. 100 euro al giorno è una bella cifra perché insomma se fai per 30 esci fuori 3000. Sembra una cosa folle? Può sembrarlo, dipende un pochettino qual è settata la tua asticella. Sembravano folli anche a me, poi l'asticella alla fine si alza sempre, l'essere umano poi desidera sempre di più. Però ti dico che è possibile e oggi in questo video ti svelo due metodi secondo me spaziali. Prima però di svegliarti questi metodi appunto parliamo di questi 100 euro al giorno. Sai quando apre appunto molti video su YouTube compaiono le pubblicità, forse anche su questo video che è aperto gente Ah vuoi sapere come fare 14.000 euro al mese, come fare 150.000? Ok va bene. Per carità tutto si può fare, non giudico, facciamo quello che non giudica, però 100 euro al giorno è una cifra alta, sì se vogliamo, però è fattibile. E la si può raggiungere, quindi ti spiegherò come fare per raggiungere questa cifra. Prima di andare su questi due metodi, lo so che non vedi l'ora di sentire questi metodi ma devo fare una premessa ed è importantissima affinché tu poi possa arrivare veramente a raggiungere questa cifra. Qual è la premessa? È che quello che fa la differenza fra una persona che fa questi 100 euro al giorno lavorando da casa e una persona che non le fa L'unica differenza è tutta qui, nella mentalità, nell'atteggiamento mentale e nella creazione di routine e di abitudini che condiziano la nostra giornata. Io sono convinto che il 90% delle persone che hanno una routine, che magari non ci fanno neanche caso che ce l'hanno, questo è il vero problema Il 90% di persone che ha un problema dal punto di vista del tempo, io non ho mai tempo, io sono sicuro che andando un pochettino a rivedere la giornata il tempo esce fuori. Per esempio, ti sei mai chiesto quanto tempo passi sui social? Su Facebook? Su Instagram? Ma passerò 20 minuti? Ok, allora installa, ci sono delle app, installa le app che ti consentono di monitorare quanto tempo tu passi sui social E vedrai che questi 20 minuti in realtà sono 2 ore. Ti sembra poco, ma 2 minuti ora, 2 minuti più avanti, 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti Alla fine, alla fine della giornata fanno 2 ore, 2 ore e mezza e tu neanche te ne accorgi Ah no, ma io non riesco a trovare tempo. Ah sì? E com'è che ti sei visto tutta l'ultima serie Netflix che è uscita, le 12 puntate in 2 giorni? Dove le trovate il tempo di guardare le 12 puntate da 40 minuti in 2 giorni? Quindi, se vogliamo, per le cose che ci interessano, il tempo c'è Qual è la vera differenza tra guardare una serie Netflix e fare 100 euro al giorno? Che guardare è una cosa passiva, ti guardi il video, ti diverti, ti intrattiene Fare 100 euro al giorno comunque è un'attività attiva Cioè sei tu che la devi fare, sei tu che devi prenderti qualche rischio, sei tu che ti devi prendere qualche responsabilità Sei tu che ti devi muovere in un mondo nuovo Quindi già queste 2-3 cose riescono a buttare giù il 90% delle persone Ecco perché non lo fanno Quindi io ti dico, non scoraggiarti subito, prova e riprova Perché non è che al primo tentativo è la svanghi Altrimenti sarebbe troppo bello Però con questi due metodi che ti darò, tu prova e poi mi dirai Però non devi arrenderti, ma soprattutto devi trovare il tempo E devi avere voglia di lavorare Perché qui sembra che tutti vogliono aumentare le proprie entrate Ma nessuno che ce la voglia di lavorare Comunque andiamo al primo metodo Il primo metodo è quello che poi ho utilizzato io Quando mi sono avvicinato al metodo del guadagno online Ed è un metodo molto semplice che funziona ancora oggi È un pochettino più difficile oggi, ma funziona ancora oggi E te ne do la dimostrazione Allora segui con me, mi sono fatto vecchio, non vedo più da lontano Allora, qui siamo su Aliexpress Adesso non so se conosci questo sito Che cosa facevo io su questo sito Aliexpress Che è un sito cinese, che tu ordini la roba da qui E ti arriva dopo 3-4 settimane a casa Ti sei anche dimenticato che l'avevi ordinato Però costava poco, quindi sei pronto ad aspettare Per esempio io ho fatto una ricerca, ho scritto macchine fotografiche per bambini E qui ti escono queste macchine fotografiche con le teste, con le orecchie dei conigli E il prezzo va dai 4,16€ a 16,05€ Come fa una macchina costare? Che cos'è che dipende? Dipende dalla quantità in cui le ordini Più ne ordini di più, meno costerà Quindi probabilmente se ne ordini una sola ti costa 16,05€ Segui fin qui Che cosa ho fatto io all'inizio? Ordinavo da Aliexpress Ci ho fatto anche un video Qui lo trovi, te lo farò comparire Un video su quanto ho guadagnato su ebay con questa tecnica 16€ Mi ordinavo questa macchina fotografica per bambini E la andavo a rivendere dove? Su ebay Il modo più semplice per creare un proprio negozio virtuale E guarda qui Qui ho fatto la stessa ricerca Macchie e fotografie per bambini Ho visto che c'è uno che vende la stessa macchina fotografica A 19 sterline che combaciano a circa 23€ Quindi io compro a 16 Vendo a 23 Però è anche vero che se io ne compro tante Posso abbassare il prezzo cui l'acquisto Il prezzo da grossista si chiamano Quindi questi 16€ possono diventare 13, 12 E io poi posso sempre andare a venderlo a 23 Quindi capisci che il giochino è questo È quello che fanno tutti Ora diciamo tutte le cose che abbiamo qui in Italia Ah che figa Questa marca è seria Viene dalla Cina Quindi tutto quello che importiamo alla fine Viene dalla Cina E poi viene rivenduto sui vari store Ma non solo su ebay Ti piacerebbe solo su ebay Guarda lo puoi vendere anche su amazon Ho trovato la stessa identica macchina fotografica Orecchia coniglietto Eccola qui Qui addirittura la vendono a 25,49€ Ma colui che ha aperto questo negozio su amazon Dove è andato a prendere? Dalla Cina Su Aliexpress Quindi questo è un modo abbastanza semplice Veloce Devi azzeccare chiaramente il prodotto giusto Un prodotto che non abbia tanta concorrenza Perché se ora anche tu ti metti a vendere La stessa macchina fotografica Sarà difficile Soprattutto perché prima di te La vende questo venditore Che ha 278 recensioni È chiaro che la gente si fida più di un prodotto Con 278 recensioni Che tu che lo metti in vendita domani Che avrà zero recensioni Sì puoi fare la lotta sul prezzo Ma diciamo che non è mai una cosa ottima Quindi questo è il primo metodo Prendere un prodotto dalla Cina Rivenderlo sui mercati internazionali O italiani Ebay Amazon Ebay è molto semplice Gratuitamente in due secondi ti apri il negozio Amazon un pochettino più completa Però fino a che tu non fai una vendita su ebay Non spendi nulla Cioè questa è la cosa vera Non devi investire nulla Non devi Sì certo Se hai comprato Il prodotto che ti è arrivato a casa Ma non devi pensarci Poi quando ti arriva la vendita Allora poi Hai l'indirizzo Devi pensare a come spedirla Però lì poi ti informi Ci sono corrieri Che ti arrivano a casa Puoi fare degli abbonamenti In base al volume A quante unità vendi Quello poi Però non guardare Tutta la scalinata Inizia a guardare il primo gradino E poi per il resto Ci si pensa Quindi questo era in assoluto Il primo metodo Secondo me Facile Abbastanza veloce Perché Prendi il prodotto Lo schiaffi su ebay E aspetti che arrivino le vendite Il secondo metodo E' altrettanto interessante E' il metodo Di guadagnare quelle pubblicità Che cosa si tratta Ora Quando si pensa a pubblicità Si pensa io che vado con la macchina Vado sulla strada principale Della mia città E trovo il cartello Fra 200 metri Trovi il McDonald's Sulla destra Questo è quello che Noi abbiamo in mente Per pubblicità Ok Forse si Esistono ancora Questo tipo di pubblicità E possono permetterselo Chi? Le grandi catene Noi piccolini Che abbiamo pochi soldi E soprattutto Che avevamo paura Di perdere soldi Perché Se tu mi dici Cristian Adesso devi mettere 200 euro in pubblicità Eh Cioè per me 200 euro sono tanti Come se poi li perdo Che cosa faccio? Non ti sto dicendo questo Sto dicendo che Se tu Se tu avessi la certezza Seguimi bene Se tu avessi la certezza Di Andare su Facebook Spendere 20 euro Per vendere Anche questa macchina fotografica Che abbiamo visto Per bambini E ogni 20 euro E ogni 20 euro che metti Fai 50 vendite Di questa macchina fotografica Lo faresti? Sì Se ti dicessi Che mettendo 100 euro Su Facebook Nelle pubblicità Di Facebook Quindi queste pubblicità Poi compaiono Alle persone Mentre scrollano All'home page Se ti dicessi Che metti 100 euro Sulle pubblicità Di Facebook E queste pubblicità Ti fanno fare Mille unità Vendute Di macchina fotografica Le metteresti Probabilmente sì Ecco Imparare A fare Le pubblicità Online Quindi non Nella vita Reale Striscioni Che ti costano Migliaia di euro Poi non convertono Nulla Ma online Perché online Tu puoi tracciare Puoi verificare Puoi scoprire Quanto hai speso E puoi scoprire Quante vendite Ti ha fatto Quella pubblicità E ora vieni con me Che apro un attimino Questo Questo sito E ti faccio vedere Oscurerò Un po' di dati sensibili Però faccio tutto in diretta Perché è facile Mettere gli screenshot Sai quanti Che fanno video Come me Che mettono Screenshot Ah guardi Lato 400.000 Poi tutto Photoshopato Non c'è niente Da photoshoppare Aspetta Ho sbagliato anche Sito Tra l'altro In tutto ciò Ho sbagliato anche Sito Dammi fiducia Dammi due secondi Che ti faccio vedere Che cosa intendo Per fare pubblicità Online Fare pubblicità Online Eccolo cosa intendo Intendo Spesa Leggi qui Spesa Che cosa sta succedendo Ecco Andato indietro Vabbè No se la posso fare Ecco ecco perché poi Devo tagliare video Però se taglio Qualcuno dice No Si vede che è tutto Truffato Ok no no Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Che avevo cliccato Guarda qui Spesa 16 euro Incassi vendite 107 Cioè se io ti dico Guarda se tu spendi 15 euro Dei tuoi E ne incassi 100 Lo faresti Sì che lo faresti Qui Chiaramente non sempre va bene Guarda qui Qui ho speso 21 euro E ne ho incassati 8 Per questo Ti dico Devi provare Cioè metti caso Che io Come primo tentativo Andavo qui Spendevo 20 euro Me ne tornavo 8 Dice Che sfiga Cioè Non funziona nulla Dicono tutte cavolate Questi invece devi provare Perché poi quando riprovi 88 euro di spesa 617 di entrate Questo è Il guadagno online E All'interno Del Mia piattaforma Pensionedare.com Io ho realizzato Due corsi Dove ti insegno a fare Queste cose qui In particolare Il corso Book Empire Ha anche un capitolo Al suo interno Dove insegno Proprio questa roba qui Delle pubblicità Quindi Amico mio Io spero di Averti fatto vedere A me piace dare Le prove Delle cose che dico Non Non screenshot Perché si possono modificare Mi piace proprio Farti vedere E farti entrare E farti fare un po' Gli affari miei Essenzialmente Cose che molti altri Non fanno Giustamente Un po' per privacy Un po' per paura Che gli altri li copiano Io penso che Se uno è bravo Ottiene risultati Se uno è bravo Non li otterrà mai Cioè nel senso Se uno si impegna Li ottiene Se uno si impegna Non li ottiene Quindi non ho paura Perché so A malincuore Che di cento di voi Che vedranno questo video Uno forse Inizierà a fare La metà delle cose Che ho detto Quindi per questo Io mi sento tranquillissimo E prendi quest'ultima frase Come motivazione Non come un'offesa Perché Perché ragazzi Molti acquistano i corsi E neanche li seguono Io posso Io dalla mia bacheca Posso vedere Su 15 lezioni Che ho fatto un corso Su quante lezioni Gli studenti Stanno progredendo E c'è gente che Gente che non ha mai Iniziato neanche La prima lezione Perché dicono Intanto acquisto il corso Che oggi è in offerta In promozione Poi quando ho tempo Lo inizio E non lo iniziano mai Altri che arrivano Alla seconda lezione E vedo che il corso È stato completato Per il 5% Quindi Forza ragazzi Forza Cambiate le vostre abitudini Prendete il tempo Trovatelo il tempo Perché se volete Lo si può trovare Per cercare Di iniziare A cambiare la vostra vita In meglio Spero che il video Come al solito Vi sia piaciuto Io ti saluto Iscriviti al canale Se non è ancora fatta E ci vediamo Nel prossimo video Ciao